E' il primo prototipo abitativo al mondo costruito su una struttura portante in cartone ondulato ed è stato realizzato da 31 studenti di Ingegneria Edile e Architettura dell'Università degli Studi di Catania. Il manufatto è stato mostrato questa mattina alla stampa alla Cittadella Universitaria, un appuntamento che completa la prima fase della Masterclass, la cui seconda fase della durata di 12 mesi sarà dedicata al monitoraggio e alle verifiche tecniche della struttura. L'evento di alta formazione è promosso dal Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura DICAR in partnership con la start-up innovativa Archicart e si avvale del sostegno di una solida rete di imprese del settore edile che hanno deciso di investire nella ricerca e sviluppo della veneristica tecnologia costruttiva. Presentiamo l'ultima fase di un cantiere che ci ha visti coinvolti nell'ultimo mese e coinvolti sia come azienda, perché rappresentiamo qui anche una start-up innovativa, Archicart, Architettura di Cartone, un'azienda che promuove l'utilizzo del cartone ondulato in architettura e nell'ingegneria. E dall'altro lato un partenariato con l'Università di Catania che ci ha permesso di condurre una ricerca sperimentale e realizzare il primo prototipo di modulo abitativo prefabbricato in cartone ondulato. Le artistiche della struttura sono che intanto è montabile a secco e in maniera veloce e senza l'utilizzo di mestranze specializzate, tanto che è stato realizzato tramite un workshop che ha coinvolto 30 studenti dell'Ateneo che non avevano mai utilizzato strumenti come sega circolare, semeligliatrice, trapani e avvitatori. Noi abbiamo dato loro una formazione minima per quanto riguarda la sicurezza nell'uso degli strumenti e nella tipologia di installazione che avrebbero fatto. E poi hanno costruito l'edificio con la nostra supervisione ma in totale autosufficienza. È una struttura solidissima, è una struttura che intanto è antisismica per sua natura perché il materiale è leggerissimo quindi non risente dell'onda sismica. In più il particolare metodo brevettato da noi ha permesso di realizzare dei pannelli strutturali molto performanti che resistono benissimo alle sollecitazioni statiche dell'edificio. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di realizzare un edificio che avesse struttura portante in carton d'olato e questo è il risultato. Questo è proprio un prototipo che stiamo facendo in scala reale per sostituire le case momentanee, quindi andare a creare dei modi abitativi, strutture temporanee. Tutto questo è realizzabile, appunto vedete la struttura, grazie anche a pertenerate con l'università. Oltre all'università sono entrate anche altre aziende locali in questo partenerato che ci hanno fornito l'infissi, ci hanno fornito l'involupo esterno o anche l'insuffaggio interno per la colibentazione del nostro pannello. Noi ipotizziamo una resistenza di 30 anni. Adesso il tempo, questi 12 mesi che testeremo tramite sensori di medità, sensori di temperatura ci daranno un po' verifica dei nostri studi.